Vacanze, tempo libero, sono gli argomenti che noi della Caravamba ci preferiamo. Il camper è il mezzo che ci consente di realizzare un modello di vacanza nuova e creativa. Viaggiando in camper si riscopre il piacere di muoversi in libertà, liberi di scoprire piccoli paesi, città d'arte, di fermarsi in riva al mare o in mezzo a un bosco, di scoprire cantine, ristoranti, di seguire i nostri figli durante le gare o le manifestazioni sportive. Liberi di scoprire il mondo, le diverse culture e abitudini e tutto questo senza rinunciare alle comodità di casa nostra. Quello che noi della Caravamba ci vi offriamo non è solo un veicolo, un buon investimento, ma è l'inizio di una nuova vita. Venite a trovarci, troverete le migliori marche di autocaravan. Arca, Laica, Caravan International Roller Team, il miglior servizio di vendita, nuovo, usato, noleggio e officina.